Enrico Facco è professore di anestesiologia e rianimazione presso l'Università di Padova. È inoltre specialista in neurologia ed esperto di terapia del dolore, agopuntura e ipnosi clinica. Con lui, partendo dall'Enigma della coscienza, titolo del suo ultimo libro, abbiamo parlato dell'origine della separazione tra scienza e filosofia nel mondo occidentale, delle diverse prospettive sul problema della coscienza, sulla connessione tra le esperienze di premorte, l'ipnosi, il misticismo, la meditazione e l'intelligenza artificiale. Buon ascolto. Il titolo del suo ultimo libro è l'Enigma della coscienza. Cosa si affronta quando si cerca di risolverlo, questo enigma? È il più grande problema di umanità di tutti i tempi. È un problema che non è solo scientifico, ma è indissolubilmente filosofico, scientifico, antropologico e anche fisico. E la coscienza è il problema più grande dell'umanità fin dalle origini della filosofia. Molte cose sulla coscienza le troviamo nella filosofia più o meno antica e anche un po' più recente. Per quanto riguarda la scienza c'è un aspetto molto curioso, che a partire dal Seicento, dalla rivoluzione razionalistica che ha dato origine alle scienze galileiane, validissime, su cui nessuna cosa io devo dire di male, anzi, ci sono delle cose che io critico, ma è bene che precisi subito, per non essere frainteso, che quando faccio una critica non è che intendo che magari il riduzionismo o il monismo materialista della scienza di per sé non possano funzionare. Critico la pretesa di esclusività per cui possa esistere solo quello che è compatibile ed è spiegabile con quel paradigma. Per esempio il riduzionismo l'ho sempre usato anch'io, lo uso tuttora come metodo di indagine quando è indicato, ma non si può capire tutto, perché il mondo della soggettività sfugge a queste cose, abbastanza richiede di essere affrontato in maniera diversa. Allora la scienza nasce nel Seicento, diciamo, con un compromesso politico con l'inquisizione. E questo lo dice chiaramente Galileo, perché nel dialogo sulle due nuove scienze che lui ha scritto quando era già 70 anni e ormai esule nella sua villa di Arcetri dopo la Biura, facendo una dimostrazione geometrica, in questo dialogo immaginario con Simplicio, lui tira fuori che si può disegnare in un foglio di carta infinite sfere. E il suo interlocutore dice stai attento piano perché stai entrando in un ramo che non è di tua competenza, che è molto delicato, perché si pensa che l'universo sia di forma sperica e che infinita sia la prima causa. E quindi stai entrando in un argomento che non è di tua competenza matematico, geometrica, di indagine del mondo fisico. E questo riguarda il gran misterio dell'universo. E lui dice, anch'io non ho ripugnanza a credere lì stesso, ma noi dobbiamo accontentarci di essere quei men che degni operai, che si occupano della materia rozza e tutto quello che riguarda il gran misterio dell'universo, l'anima e Dio, e quindi la coscienza, le lasciamo a discipline più alte che le nostre, cioè la teologia. Quindi è una scelta di occuparsi solo della materia fisica per ragioni di compromesso politico legato alla situazione storica. Nello stesso periodo, Cartesio, che era un genio straordinario, ma era preoccupatissimo di non creare una insanabile frattura con gli scolastici e con la Chiesa, arriva a formulare la separazione della res cogitans, quindi della coscienza e dell'anima, dalla res extensa, quindi il mondo fisico e il corpo. E questa è stata una scelta, direi, straordinariamente valida per l'epoca, ai fini del compromesso che era da fare. A questo punto ci sono diverse cose. Uno, la medicina può nascere e l'indagine scientifica della medicina del corpo, ossia della macchina terrena del corpo cartesiano, può vivere indisturbata al riparo dell'inquisizione. La Chiesa ha la totela assoluta e la competenza assoluta nell'anima, ma con questo abbiamo separato in maniera, direi, quasi schizofrenica, è una scissione che in natura non esiste, la mente dal corpo, rendendo difficile la comprensione della loro intima unione interna, in vivo e del fatto che noi non possiamo studiare solo il corpo senza considerare la mente. E c'è stata una tendenza a occuparsi della medicina in termini proprio di meccanica del corpo, lasciando stare tutto quello che riguarda la coscienza, come se la mente non avesse nessun ruolo né in fisiologia né in patologia. Ora, non è tutto così, ma sto facendo un po' un discorso di quello che sono le tendenze dominanti che si sono succedute in questi secoli. Allora, cosa succede? Che la coscienza come tale non fa parte del mondo della scienza, fino alla fine dell'Ottocento, rimane segregata in ambito di religione soprattutto e di filosofia. E in neurologia, in medicina, non ci si è occupati di coscienza fino agli anni Ottanta. E negli anni Ottanta che cominciano a comparire dei primi lavori scientifici dedicati allo studio della coscienza e quindi alla nascita della scienza della coscienza, la quale è giovane e ha quattro secoli di ritardo per tutta questa serie di circostanze storico-politiche. Allora, per la scienza della coscienza, alcuni problemi rimangono ancora sfuggenti e non c'è un metodo di studio che ci permetta di studiarlo come si deve, in maniera appropriata. E questo è il grande problema dibattuto tra neurofisiologi, cognitivisti, psicologi, neurologi nella fondazione della scienza della coscienza. Curiosamente, gli unici che si sono occupati di coscienza nel secolo scorso, nella prima metà, sono i fisici quantistici, i quali, trovatisi di fronte a paradossi che non riuscivano a spiegare col paradigma classico dominante di matrice positivista, hanno cominciato a indagare la coscienza trovandosi di fronte a dati che ormai conosciamo tutti perché sono di grande appille, di grande moda, dell'idea che l'osservatore modifica il fenomeno osservato, che non vuol dire che l'osservatore con la sua mente altera la realtà esterna, ma che quello che io vedo dipende dalle ipotesi che ho in testa, da quello che faccio, da che strumenti di misura uso e quindi vedo cose diverse a seconda di come io imposto l'esperimento. Allora, è curioso quindi che proprio i fisici sono stati i primi a occuparsi di coscienza. Bohr ha fatto vent'anni di collaborazione con Carl Gustav Jung sulla sincronicità, cioè sulla possibilità che possono esserci anche eventi non spiegabili in termini di causa-effetto e che implicano ovviamente l'osservatore nel fatto di come vengono interpretati e vissuti e per il significato che hanno. E la scienza medica ha cominciato da grosso modo agli anni Ottanta a occuparsi di questa cosa. Quindi siamo agli inizi, siamo quattro secoli in ritardo rispetto alle altre scienze galliliane. Affrontando questo enigma, l'enigma della coscienza, affrontiamo qualcosa che è un'universale in realtà in tutte le società, in tutte le epoche, ma in realtà anche per ognuno di noi individualmente. Ma di che cosa parliamo quando parliamo di coscienza? Allora, se io potessi darle adesso, in due minuti, una definizione esaustiva, chiara, definitiva, da usare per tutti come significato della coscienza, mi potrei candidare per il premio Nobel, non so se per la filosofia o per la medicina. Nel senso che è un termine molto ampio e essendo molto ampio, ha molte accezioni, con questo diventa anche potenzialmente ambiguo. La coscienza implica tante cose, perché implica il fatto di essere svegli, per esempio. Ma essere sveglio vuol dire non essere in coma, per esempio in ambito neurologico. Ma un paziente che è in stato vegetativo non è in coma, perché sveglio, perché apre gli occhi, anche se non ha nessuna vita di relazione. C'è la coscienza intesa come, a livello proprio delle cose più elementari, come consapevolezza, io mi rendo conto di me stesso e del resto del mondo. Poi ci sono tutta una serie di accezioni che finiscono anche nell'etica, mettersi una mano nella coscienza, per esempio. Quindi c'è tutta la componente della coscienza che sforza nella morale e nell'etica, rendendo il termine estremamente ampio. Però, diciamo, a un livello, a un livello così, diciamo, basale, possiamo pensare alla coscienza e al fatto di essere consapevoli di se stessi e dell'ambiente. Però anche questo c'è la coscienza, c'è l'autocoscienza, l'autoconoscenza, ci sono mille altri elementi di quello che è la vita, della coscienza, di come io percepisco e conosco me stesso e il resto del mondo, o come credo di conoscere me stesso e come credo di conoscere il resto del mondo. E un'altra cosa ancora è che abbiamo una chiara evidenza dell'esistenza dell'inconscio e la metafora che tutti conosciamo è quella dell'iceberg, proposta da Freud ancora, che indicava come la coscienza sia una piccola parte della nostra psiche, che in un iceberg di ghiaccio normalmente quello che è fiore è circa il 10% di tutta la massa. Tutto il resto, non sappiamo neanche che forma ha, fin dove si approfonda, è tutto il resto, e siccome è sotto il pelo dell'acqua non lo vediamo, è una buona metafora per l'inconscio. La mia sensazione è che l'inconscio sia ancora molto più ampio come rapporto con la coscienza rispetto all'iceberg di Freud. Ma c'è un altro elemento ancora, che nella stessa coscienza i processi mentali con cui noi lavoriamo quando siamo coscienti, c'è una grossa componente che è inconscio, quindi la separazione tra conscio e inconscio è abbastanza arbitraria, nel senso va bene usarlo per ragioni di comodità descrittiva, però pensare che la coscienza è una cosa, tutta cosciente, e l'inconscio è tutta la parte di cui noi non sappiamo, è anche questo non così chiaro. Noi facciamo tante attività in cui facciamo il livello preconscio e inconscio senza rendercene conto. Provi a pensare anche solo di fare un viaggio in macchina, ha magari, non so, litigato con la fidanzata e passa tutto il viaggio a pensare a tutti i problemi che aveva, le discussioni che ha fatto e dopo a un certo punto si rende conto che è arrivato, ha fatto a 20 km, non si ricorda più che strada ha fatto, c'erano semafori verdi o rossi, eccetera, perché è riuscito a fare a livello preconscio un lavoro difficile e che richiede anche prontezza di riflessi, mentre la coscienza è rimpegnata in qualcos'altro di attività introspettiva. Quindi è un po' come dire, non è solida così la coscienza come noi la conosciamo, è un po' come tante isole che emergono da un mare inconscio, ma in quello che noi percepiamo di queste isolette, di questo arcipelago, una grossa componente che genera il galleggiamento di questa cosa che noi vediamo è inconscio anche quello. Questa complicatezza sembra sorgere e quindi la coscienza da quel circa chilo e mezzo di materia grigia con i suoi cento miliardi di neuroni che chiamiamo cervello da un punto di vista fisico. Il suo libro lei riprende Chalmers e indica la differenza tra l'easy problem, ossia il problema semplice e un hard problem, un problema difficile che riguarda la coscienza. Ci può spiegare? Assolutamente, questo è il punto chiave della discussione tra diversi neuroscienziati che si occupano di coscienza, di quelli che hanno un'impostazione più rigida di tipo monista materialista che pensano che la realtà è il cervello perché è fisico e la coscienza è un epifenomeno di circuiti cerebrali, quindi la realtà è il cervello e tacciano di dualismo quelli che dicono che la coscienza non si può ridurre solo ai circuiti cerebrali. E secondo me sono due visioni tutte e due parziali e anche qui l'esclusivismo che è un vecchio vizio dell'ego umano fa la parte sua nel creare così incomprensioni quando in realtà tutto è indispensabile. Allora dalla posizione diciamo dominante nella scienza che è di matrice monista materialista e quindi studiamo il mondo fisico il problema facile cos'è? Ed è quello che si sta facendo e sta dando un sacco un'infinità di informazioni importanti utili su come sono i circuiti cerebrali connessi con la coscienza e con le funzioni mentali con le attività superiori e questo è il problema facile nel senso che abbiamo un metodo di studio perché sappiamo come valutare le esperienze dei soggetti come fare un'analisi dei circuiti cerebrali che sia con le tecniche di neurofisiologia come l'elettroencefalogramma o con la risonanza magnetica funzionale per vedere certe attività mentali a quali aree fanno riferimento e quali sono i circuiti cerebrali che sono sottesi all'attività mentale abbiamo un'infinità di studi e un sacco di condizioni in questi trent'anni è stata veramente una rivoluzione però sappiamo ancora molto poco e come dice Chalmers forse ci farà ancora un secolo o due di duro lavoro per arrivare a una conoscenza più esaustiva di questa parte che però non presenta problemi di tipo filosofico epistemologico perché il metodo di studio è pronto cioè il riduzionismo qui va benissimo perché io prendo una certa attività mentale studio il cervello e vedo quali circuiti quali neurotrasmettitori quale attività elettrica corrisponde e quali sono quindi i cosiddetti neurocorrelati della coscienza cioè quali sono le componenti cerebrali che entrano in gioco quando noi facciamo queste attività coscienti il problema difficile è proprio difficile perché non abbiamo ancora un metodo di studio che sia accettato e ormai definito chiaramente ed è un problema che è proprio di natura metafisica perché il problema è che la coscienza è un fatto soggettivo noi viviamo solo all'interno della nostra coscienza quello che conosciamo del mondo sono le immagini mentali che abbiamo tutta la conoscenza compresa la scienza stessa è un prodotto della coscienza vive nel mondo della coscienza e ha tutti i suoi valori significati all'interno del mondo della coscienza io non so come si possa pensare di ridurre per esempio la teoria della relatività di Einstein o la nona di Beethoven a circuiti elettrici e neurotrasmettitori che i neurocorrelati spieghino come il cervello processi il lavoro tutta la lavorazione che noi facciamo per carità questo è indispensabile è un passo utilissimo ma non si può ridurre tutta l'umanità a questo e allora il problema è cos'è l'esperienza cos'è l'essenza e il nucleo dell'esperienza per esempio cos'è la dolorosità del dolore o cos'è la rossità del rosso che in termini scientifici noi possiamo noi possiamo assolutamente così definire per esempio sul dolore si sanno molte cose neurotrasmettitori via nervosa e tutto il resto ma il dolore è materia di esperienza ed è dolore solo in quanto io lo vivo con quello che è il significato del dolore che tutti conosciamo perché sono pochissimi a non sapere cosa sia il dolore e questo è diverso concettualmente dalla stimolazione di vie nervose la liberazione dei neurotrasmettitori eccetera quello che rende il dolore tale è l'esperienza senza l'esperienza e come noi lo viviamo il dolore non può esistere ma pensi anche un'altra cosa per esempio se pensiamo che un albero ha una chioma verde e tutti lo vediamo che la chioma è verde è ovvio è una proprietà intrinseca obiettiva dell'albero o è un nostro modo di percepirlo e quello che noi pensiamo essere qualità obiettiva perché appartiene all'oggetto che noi vediamo è molto una questione soggettiva del come i nostri organi di senso sono fatti e come noi codifichiamo le immagini cerebrali un pipistrello per esempio probabilmente non vedrà quell'albero verde perché il suo sistema di contatto con il mondo è un sistema sonar ed è quasi cieco e quindi tutto il mondo come noi lo conosciamo è una co-creazione del mondo esterno di realtà fisica in sé e di tutto quello che sono il nostro modo di percepirla e codificarla con cui si crea l'immagine del mondo ma è una combinazione di queste due cose della realtà fisica in sé e di come la coscienza umana la vede e se immaginassimo l'esistenza di altri esseri nell'universo oltre che di tanti animali che ci sono sulla terra le visioni del mondo sono diverse per ogni specie probabilmente quindi indagare l'enigma della coscienza in un certo senso è come reinquadrare una percezione un po' naif della verità esatto la verità non è raggiungibile perlomeno non è raggiungibile con un metodo logico analitico intellettuale scusi se la interrompo ma la cosa mi interessa molto non è raggiungibile o in fondo non esiste non mi viene naturale per sapere quello che diciamo come essere esistente è possibile ma è oltre le categorie del nostro modo di ragionare di conoscere noi riusciamo solo ad avere approssimazioni della realtà noi creiamo modelli della realtà dice Metzinger che il cervello è un motore ontologico che crea modelli della realtà a partire da quello che gli sembra plausibile anche il concetto di bene e di male è valido non è che non sia valido quindi distinguiamo verità con la V maiuscola dalla validità di quello che noi possiamo vedere contingentemente perfino il bene e il male che sono valori fondamentali sono categorie che sono spesso antropocentriche e in alcune religioni soprattutto nelle correnti mistiche si comincia a pensare ci è cominciato secoli fa che Dio è oltre il bene e il male perché il bene e il male è nella categoria dell'umanità all'interno del suo mondo noi pensiamo pensiamo per esempio che se ci troviamo davanti ad un animale feroce quello è male ma è male dal punto di vista nostro perché se lui non ci mangia muore di fame per lui il male è se noi scappiamo via allora il problema è quanto noi proiettiamo le nostre categorie mentali e le nostre le nostre posizioni antropocentriche sulla realtà pensando di essere obiettivi ma in realtà siamo meno obiettivi di quello che crediamo di essere spesso quindi questi problemi qui aprono una problematica enorme che secondo me richiede una profonda riflessione su tutto quello che abbiamo detto e pensato fino ad oggi abbiamo un palazzo magnifico di conoscenza della cultura occidentale ma in mezzo secondo me abbiamo messo dentro qualche mattone un po' difettoso senza rendercene conto a partire dalla separazione mente e corpo che in natura non esiste in vivo quello che ci ha appena detto sul bene e sul male ora che effetto ha sull'etica generale allora il problema esatto il problema è che non tanto chi dia problemi sull'etica quanto il problema critico è non abusare sovrastimare la nostra capacità di sapere e di pensare di essere nel giusto o nel vero noi siamo sempre più fragili di quello che non crediamo che non di quanto non siamo realmente e come diceva già Schopenhauer saggiamente l'uomo crede di essere è libero ma non è libero come crede di essere libero e noi possiamo dire oggi in questa chiacchierata che noi siamo coscienti ma non siamo coscienti come crediamo di essere coscienti perché quello che non è parte della coscienza e che pure entra nell'elaborazione di quello che è cosciente è tutto quello che noi non vediamo e non percepiamo per noi semplicemente non esiste lei pensi agli organi di senso come la porta che fa comunicare con il mondo ma ogni organo di senso ha una banda passante noi vediamo solo una parte dello spettro delle onde elettromagnetiche e ascoltiamo solo una parte dello spettro delle onde udibili le altre per noi semplicemente non esistono con gli strumenti siamo riusciti a scoprire ultrasuoni radiazioni gamma e tutto il resto ci abbiamo messo qualche migliaio di anni e quanto di quello che oggi noi non vediamo fa parte del mondo e noi sistematicamente lo cancelliamo perché è la condizione umana come di ogni altro essere animale che ha la sua porta di contatto con il mondo quindi i nostri organi di senso e il nostro cervello sono quello che ci permette di comunicare col mondo ma sistematicamente anche un filtro che impedisce a una parte del mondo di essere percepito basta esserne consapevoli il problema per me non è tanto di queste cose pensare che di smontare valori ma è proprio la sovrastima o la sottostima rispetto a come le cose sono quella che è pericolosa perché l'errore sta lì e nella via dell'illuminazione che trovo nella cultura orientale bisogna superare il pensiero concettuale e arrivare alla fusione tra per esempio nello yoga tra l'atman individuale e l'atman universale a quel punto non è più bisogno neanche dell'etica sei in coincidenza perfetta con l'essere se lei guarda tutti i grandi illuminati i santi di qualsiasi cultura di qualsiasi tempo hanno l'altratto comune secondo me di avere una prospettiva che non è egocentrica che se lei prende Jung e chiama individuazione il processo di riuscire a entrare in contatto con l'inconscio collettivo da cui esci da una prospettiva limitatamente egocentrica animata da quello che Hobbes chiamava la cupiditas naturalis per cui sei disposto anche a ammazzare tua madre pur di avere qualche vantaggio come ti appare nel mondo dell'avere ed è l'eterna dinamica nel mondo tra il mondo dell'essere e il mondo dell'avere la spiritualità e il bene e tutto quello che riguarda gli obiettivi di tutte le religioni di tutte le filosofie anche orientali senza necessità di una forma di teologia è proprio l'essere nel mondo appartenendo al mondo il concetto di amore è proprio la spettiva di essere nel mondo sentendosi parte del mondo e avendone un profondo rispetto perché ne sei parte anche tu rispetto alla visione alienata di chi dice io ci sono io e il resto del mondo faccio quello che voglio io non me ne può interessare nulla che se lei pensa è la posizione più primitiva più arcaica che è quella di narciso che si vede allo specchio si innamora di se stesso e disdegna l'amore che gli altri hanno che hanno per lui e non gli interessa nulla perché non è capace di entrare in contatto con l'altro entrare in relazione lei ha una formazione scientifica anche perché poi nell'introduzione si sentirà lei è un neurologo certo sentendola parlare diciamo il suo interesse interdisciplinare e multidisciplinare e soprattutto in questo libro viene fuori quasi un desiderio di riportare insieme scienza e metafisica indicativamente usando queste parole l'Oriente l'Oriente ha fatto sua tanta parte della scienza occidentale l'Occidente ha fatto suo quello che di valido c'è a Oriente secondo lei non ancora è stato sottostimato ma diciamo questo che la prospettiva fisiologica è sempre quella egocentrica e quindi anche la scienza ha un'impostazione fondamentalmente etnocentrica e tutta la nostra cultura del secolo scorso anzi se pensiamo alla prima metà del secolo scorso alla fine dell'Ottocento si sosteneva anche la superiorità dell'uomo occidentale della razza bianca e tutto il resto e tutta la parte del colonialismo che è un tantino direi ipomaniacale secondo me e e non certo in sintonia con il mondo quindi il problema è che secondo io ho sempre sostenuto e le dico ho cominciato a studiare medicina perché volevo una base di conoscenza biologica e del cervello e della mente perché se non conosci te stesso nel modo migliore non puoi pensare di occuparti del resto quindi volevo un fondamento solido che è quello che mi ha portato poi a fare neurologia occuparmi di coscienza e di solterazioni per una vita ma io volevo fare filosofia di mia ho sempre coltivato la filosofia fin da quando ero studente del liceo e ho cominciato a studiare filosofie orientali di mia iniziativa senza che nessuno mi mettesse in contatto con l'Oriente e ho trovato delle cose di una saggezza di una profondità di una bellezza che sono ineludibili tanto noi ci siamo occupati della realtà fisica e di come manipolare il mondo esterno con tutti i risultati direi straordinari pur con tutti i limiti che ci sono anche adesso dei problemi ecologici che abbiamo creato mentre il mondo orientale si è occupato sempre del mondo interno con un'analisi sistematica basata sulla meditazione sull'introspezione e ha raggiunto delle vette di conoscenza direi molto importanti se le pensa l'inconscio che noi abbiamo scoperto un po' con l'ipnosi e poi Freud che ha un po' definito l'inconscio in ambito psicoanalitico l'inconscio è stato già descritto lo trova descritto nell'Ankaavatara Sutra che è un sutra Mahayana del quattro secolo avanti Cristo con una visione dell'inconscio che è molto più ampia di quella di Freud e che è quella che si sente poi in Jung che è stato un grosso conoscitore di cultura orientale di filosofia orientale e la filosofia rimane da sempre la madre della scienza e non si possono separare c'è una ragione storica per averle separate nel settecento perché le scienze cercavano un modello autonomo e specialistico di indagine del mondo fisico e va benissimo però tutto ciò che è conoscenza che riflette la realtà è da sempre filosofia se lei pensa i presocratici sono chiamati fisici sono i primi che hanno cominciato a cercare di porsi il problema di comprendere la natura della realtà e la filosofia ha questo scopo e le scienze come dice Husser sono una derivazione tecnico professionale di quell'unica filosofia che è la matrice di tutta la conoscenza e la metafisica qui chiariamo una cosa la metafisica nel senso non di speculazione sui principi primi come era la scolastica ma la metafisica intesa come ontologia e come analisi degli universali dei concetti e dei criteri di ragionare per riuscire a poter raggiungere una dimostrazione coerente del cosa sia più valido che parte con Aristotele e questa è la scaffalatura entro la quale la scienza lavora se non abbiamo dei criteri di pensiero e leggi di pensiero per gestire le informazioni e i dati beh ci manca un pezzo fondamentale quindi la filosofia rimane il timone della barca quindi non c'è motivo veramente di separarle e secondo me dobbiamo adesso cominciare ad avere è indispensabile un approccio metafilosofico e cioè quello di entrare a comprendere diverse culture diverse filosofie perché tutte hanno qualche cosa di fondamentale da dire e bisogna stare attenti perché noi dalla nostra prospettiva non capiamo fraintendiamo quello che non è compatibile con il nostro pensiero questo approccio metafilosofico che è molto forte nel suo ultimo libro e che ha al centro il rapporto tra mente e cervello e mondo interno e mondo esterno è un diciamo una prosecuzione secondo me di altri suoi lavori come altri due titoli esperienze di premorte e ipnosi e meditazione dov'è la connessione se non la vedo solo io la connessione è che è un argomento unico perché la coscienza è la madre di tutti gli altri problemi perché tutto transita nella coscienza e se non sappiamo come funzioniamo e con coscienza da questo punto io intendo anche l'inconscio com'è che possiamo pensare di raggiungere una conoscenza valida cioè io ho citato diverse volte nel libro il monito che era nel tempio di Apollo ad Elfi il gnotis auton che conosci te stesso che è una cosa che troviamo poi in tutte le filosofie antiche nelle sapienze di tutte le culture perché se io non conosco me stesso come posso pensare di avere un'interpretazione corretta del mondo esterno per esempio posso proiettare sul mondo esterno cose che sono mie e che penso e che penso che siano obiettive cosa che abbiamo fatto per duemila anni siamo stati abbastanza prigionieri di un realismo ingenuo e il realismo ingenuo è quello di chi normalmente pensa che la realtà è quello che vede come lo vede che io chiamo il dogma dell'immacolata percezione in questo diciamo le near death experience ossia queste esperienze premorte presentano alcuni elementi che ci fanno riflettere a me quello che mi ha colpito di più vedendo alcuni video in cui parlavo del suo libro perché personalmente non l'ho ancora letto sono gli elementi ricorrenti in queste esperienze quali sono questi elementi allora le esperienze di premorte sono un argomento anche questo che dalla prospettiva positivista trattino materialista del secolo scorso fino agli anni 70 80 e ancora molti le pensano così se uno ha una prospettiva rigidamente materialistica siccome uno ha queste esperienze che non corrispondono a quello che gli altri vedono sono allucinazioni o un fatto psichiatrico prodotto dal danno cerebrale ci sono diverse interpretazioni scientifiche ma nessuna per il momento ha dimostrato assolutamente nulla e il problema è che queste esperienze hanno intanto delle caratteristiche dei temi principali tipo la visione del tunnel con la luce in fondo la grande pace la grande serenità la visione di eventuali scenari diciamo trascendenti chiamiamoli cioè di una realtà che non è quella nostra l'incontro con i parenti o con le persone che si conosci decedute la presenza di entità che non sono descritte secondo le spesso non sono descritte secondo l'iconografia delle religioni di appartenenza e lo vedono anche gli atei con cui è una comunicazione un po' di tipo telepatico non quella quella diciamo concettuale a cui siamo abituati e il fatto di fare un bilancio della propria vita una specie di revisione olografica istantanea di tutta la propria vita e queste esperienze poi lasciano ovviamente mettono sono molto intense e sentite in maniera molto forte ma poi portano a rilaborazione che portano a un aumento della maturazione della consapevolezza delle persone allora il fatto che siano esperienze che pur avendo delle caratteristiche alcuni elementi siano individuali o culturali il nocciolo duro quegli elementi che ho citato sono universali sono presenti in tutte le culture a tutte le latitudini a tutte le longitudini e se fosse un'espressione di un danno cerebrale potremmo aspettarci semmai una cozzaglia di caledoscopica di impressioni frammentate diverse perché i danni cerebrali sono tutti diversi e anzi il delirium in terapia intensiva è un disturbo ben conosciuto ben codificato ben descritto che è quello prodotto dai farmaci o dalle lesioni cerebrali è una fenomenologia che non ha niente a che vedere con le esperienze di premorte quindi l'equazione è una cosa così quindi è stato il danno cerebrale è solo appiccicare un'etichetta tanto per giustificarle senza porsi il problema e da una prospettiva rigorosamente materialistica e queste ricorrenze ovviamente non penso lei le possa spiegare ancora una volta in due parole e beh a cosa si potrebbero allora una forma di inconscio collettivo piuttosto che una componente sì una componente potremmo dire che sono archetipiche nel senso che sono universali e quindi fanno riferimento a quell'inconscio collettivo ai fondamenti della nostra della nostra psiche inconscia per il resto io ho cominciato adesso penso che andrò avanti anche come prossimi lavori ho diciamo criticato il concetto di stati alterati di coscienza che è una classificazione molto convenzionale che non mi piace e per tutto quello che non è patologico ho proposto il termine di espressioni non ordinarie della mente questo perché mette in evidenza la natura non patologica e del fatto che sono diverse a quello che noi come spirito del tempo come diciamo clima culturale in un dato momento storico riteniamo magari poco plausibile e in queste esperienze espressioni non ordinarie io ci metto dentro l'ipnosi che peraltro è pura fisiologia della mente ed è una facoltà fondamentale perché permette di migliorare il controllo sulla propria mente e sul proprio corpo il contrario di quello che normalmente si pensi la meditazione le esperienze mistiche le esperienze di premorte e una serie di altre manifestazioni non ordinarie in cui possiamo metterci anche degli elementi di quello che è la creatività dell'arte della cultura che non sono così facilmente codificabili e sono la parte delle funzioni più elevate e ancora misteriose e non ben capite della mente umana e se andiamo a vedere pur essendo molto diverse tra di loro hanno degli elementi comuni sia l'esperienza di premorte sia la meditazione sia l'ipnosi sia tutte queste manifestazioni qui per esempio il tempo quando sei in meditazione o in ipnosi profonda cessa di avere un significato come cessa di avere il significato il tempo anche nell'esperienza di premorte anche nell'esperienza mistica quindi sono degli elementi di come noi funzioniamo e come cominciamo a lavorare in un modo diverso da quello ordinario convenzionale con tutto quello che può avere di valido e di cognitivo perché se c'è una cosa assolutamente certa è che la meditazione ha delle capacità cognitive enormi e ormai è dimostrato e l'ipnosi è uno strumento terapeutico fenomenale se ben usato allora qui c'è un problema che diciamo la prospettiva quella più convenzionale una un'esperienza strana tipo un'esperienza mistica una visione viene equiparata immediatamente dalla prospettiva materialistica a un delirio mistico a un fenomeno psichiatrico ma qui c'è una diagnosi differenziale che secondo me è recentissima e l'ha detta niente meno che Platone in persona che ha già detto la cosa definitiva secondo me sul piano proprio epistemologico lui nel Fedro dice ci sono due tipi di follia quella prodotta dall'infermità e quella follia divina che è il prodotto di chi si è liberato del gioco delle convenzioni e delle abitudini in fondo anche la scienza richiede i visionari perché la scienza è l'arte di riuscire a vedere quello che è invisibile lei provi a pensare alla teoria della realitabilità di Einstein le intuizioni grandiose che ha avuto Einstein allora in qualche modo un visionario ma era quello che vedeva quello che gli altri non vedevano ma aveva ragione lui perché il criterio di normalità è statistico nelle esperienze mistiche sono solamente quelle diciamo indotte in maniera endogena sia a partire da noi o anche quelle che sono spinte attivate magari da sostanze particolari secondo lei allora anche quello il mondo è abbastanza complesso c'è tutto il mondo delle sostanze psicotrope che però va visto in un'ottica sciamanica come tradizione ma anche in un'ottica per esempio lei pensi ai misteri Eleusini in Grecia la Grecia che noi amiamo molto per la filosofia razionale aveva una parte che era nascosta di cui sappiamo pochissimo perché era vietatissimo rivelarne i contenuti che era quello della Grecia dei misteri in cui c'erano dei riti di iniziazione nei misteri Eleusini per esempio c'è una testimonianza non mi ricordo se di Artemidoro che dice che l'iniziando doveva cibarsi anche di semi di oppio e quindi un po' di sostanze psicotrope c'erano ma allora il problema è questo non c'è nessuna sostanza psicotropa che ti faccia fare un'esperienza che abbia un significato quello che conta è la ritualità l'obiettivo che io ho ed è quello che lo stesso Aristotele che era stato anche lui iniziato ai misteri Eleusini come anche Platone credo anche andando nella tardo periodo perfino anche Cicerone se non ricordo male e lui Aristotele parla di Epopteia che è quel momento di illuminazione in cui tu finalmente comprendi la natura della realtà uno stato di supercoscienza con cui vedi la realtà oltre il velo della coscienza ordinaria e la limitata prospettiva di tutti i giorni questo non lo fai perché è la droga che te lo fa fare la droga è come una chiave che apre delle porte a distanze della mente misteriose se lo apro in maniera disordinata senza controllo senza sapere dove andare quello che fa il drogato da strada faccio lo sballo c'è un momento di esperienza forte che può piacermi ma può essere anche brutta tutte le conseguenze negative pericolose a valle non faccio un solo passo verso la consapevolezza verso la realizzazione spirituale quindi che nelle società sciamaniche e anche però troviamo una lunga tradizione nella Grecia di ritualità in cui forse era usata anche qualche sostanza psicotropa anche se non abbiamo certezze ma che è proprio questo percorso verso una consapevolezza superiore ma questo è parte della mente della coscienza dello spirito dell'inconscio di come noi intenzionalmente in qualche modo montiamo sul ponte di comando e abbiamo una direzione su cui andare dopo che tu hai il carburante che ti spinge un po' più veloce piuttosto che andarci senza senza niente per carità questo anche può essere ma non è la sostanza in sé perché la sostanza può fare tutto e il contrario di tutto essere pericolosissima non è automatico e questo è un po' anche come funziona l'ipnosi dalle sue spiegazioni ossia il setting e il desiderio della persona di andare in una direzione piuttosto che l'altra rendono l'ipnosi come in certe situazioni alcune sostanze semplicemente come un passepartout o comunque un apricorta si adesso c'è uno studio che forse si farà adesso non posso dirle di più per vedere la relazione tra meditazione e anche endocannabinoidi cioè i mediatori naturali su cui agisce la cannabis che non ha niente a che vedere con l'uso di droghe ma certamente se noi abbiamo questa strana meravigliosa connessione col mondo animale e vegetale le provi a pensare se non è straordinario come abbiamo le piante che nella tradizione sciamanica si chiamano piante maestro perché se usate bene ti possono insegnare e abbiamo noi i neurotrasmettitori e i recettori per quelle sostanze e questo è condiviso anche dagli animali per esempio le renne non disdegnano di mangiare qualche pezzettino di amanita muscaria e viste dal di fuori sembrano ubriache e poi si addormentano quando si svegliano e hanno fatto pipì vanno a mangiare la nero e hanno fatto pipì dove ci sono dei metaboliti ancora attivi e si fanno una seconda gita di seconda mano mangiando la neve con l'urina dentro e probabilmente gli sciamani della Siberia hanno imparato nell'antichità a usare determinati allucinogeni guardando anche il comportamento animale quindi c'è questa strana complementarietà straordinaria perché in qualche maniera è un mondo ancora poco conosciuto ma che è implicato nell'evoluzione spirituale dell'umanità il concetto di droga come la contendiamo normalmente è un prodotto culturale del ventesimo secolo abbiamo creato una visione di uso di sostanze come fuga dalla realtà quando magari in principio poteva essere quasi non un avvicinamento ma un tuffarci è il prodotto di una società che per certi aspetti ha una sua malattia culturale di cui parlavamo secondo me adesso abbiamo bisogno di cominciare proprio con serenità a ripensare dai fondamenti del nostro modo di essere di pensare di relazionarci con la realtà con una prospettiva più ampia la stessa malattia culturale che poi porta ad aver catalogato per lungo tempo ma oggi lo stesso metodo scientifico lo dimostra ipnosi e meditazione in nulla di più che trucchi da baraccone allora dell'ipnosi è bellissima la storia perché l'ipnosi ha fatto comprendere l'esistenza dell'inconscio è da lì che è nata poi Freud l'ha abbandonata perché non sapeva bene come gestirla era un po' imbarazzato ha preferito lavorare con un metodo logico analitico razionale di stampo positivista non erano pronti per usare l'ipnosi perché ancora la conoscevano poco allora dalla prospettiva scientifica di osservare il mondo rigorosamente da una prospettiva di terza persona guardando il fenomeno dal di fuori per essere obiettivi quando tu vedi uno in ipnosi se questo è molto rilassato agli occhi chiusi sembra che dorma e quindi l'ipnosi è stata considerata come la condizione più simile al sonno e si chiama ipnosi per questo termine cognato nel 1841 se io non entro nella narrazione del soggetto nella sua prospettiva di prima persona e non so che cosa sta facendo come processi mentali mentre in ipnosi non posso capire nulla e qui il metodo quello dell'obiettività e del meccanicismo del riduzionismo non è sufficiente a comprendere i fenomeni soggettivi bisogna entrare dentro nella prospettiva di prima persona con un metodo che permetta di fare delle valutazioni ovviamente ragionevoli obiettive ben fatte e quindi l'ipnosi è stata fraintesa poi il fatto dell'ipnosi siccome era nata male con l'idea che Mesmer faceva riferimento all'esistenza di un ipotetico flusso magnetico animale e c'è stata una commistione all'inizio anche con alcuni aspetti di tipo parapsicologico l'ipnosi non è stata capita è sempre stata considerata assurda non gestibile ed è stata rifiutata a priori questo lo dice chiaramente Freud anche come la classe medica tedesca dell'epoca avesse un pregiudizio insormontabile dell'ipnosi se lei pensa Esdel che è un chirurgo scozzese che lavorava in India in un ospedale nel 1846 pubblica epoca in cui non c'erano ancora in uso gli anestetici negli ospedali di aver fatto 300 interventi chirurgici anche maggiori in ipnosi senza anestetici perché non ce n'erano in piena sicurezza del paziente in pieno benessere è stato richiamato indietro dal medical council scozzese ha dovuto ritrattare la sua posizione perché non poteva usare l'ipnosi perché era assurda cioè non ti basta nemmeno l'evidenza su una casistica così grossa di vedere quello che fa per accettarla quindi le credenze quasi una caccia alle streghe esatto ma le credenze e i pregiudizi sono più forti della realtà e questo non di rado può succedere anche nel mondo della scienza del resto la scienza è caratterizzata anche da rivoluzioni e quindi ogni cosa innovatrice che cambia le cognizioni precedenti trova sempre detrattori che hanno bisogno di difendere il già conosciuto anche se non funziona questo lo diceva molto bene Max Planck all'inizio del secolo scorso nella diatriba tra fisici quantistici e fisici classici e lo dice in una maniera molto pregnante perché dice quando una nuova teoria è valida è dimostrata e si afferma e sostituisce le conoscenze precedenti non lo fa perché convince i suoi detrattori ma perché questi prima o poi vanno in pensione e muoiono e sono sostituiti da persone per le quali queste cose sono molto più plausibili e quindi le accettano il fatto che in alcuni casi si possa operare appunto senza anestesia e questo è provato nel senso si fa e si può sostituire io ho fatto gli interventi chirurgici uno l'ho pubblicato su una rivista internazionale di anestesia anche appunto e si può sostituire appunto con l'ipnosi cosa ci dimostra questo? il problema è questo diciamo la grandissima parte la stragrande maggioranza della chirurgia non si può fare solo in ipnosi perché richiede la chirurgia grossa richiede che il paziente sia curalizzato attaccato al respiratore se no non si può proprio pensare neanche lontanamente di far l'intervento e la sicurezza dell'anestesia oggi farmacologica è tale che non è nessun vantaggio dal dover usare solo l'ipnosi però in tutte quelle tecniche per esempio in chirurgia ambulatoriale in odontoiatria nella manovre invasive anche nella radio nella chemioterapia in tutte le cose che uno affronta e che creano angoscia e che creano disagio l'ipnosi è uno strumento che dà al paziente un autocontrollo splendido io ho pazienti che riuscivano a affrontare la chemio e la radioterapia e con due o tre sedute di training di ipnosi gli ho insegnato a fare l'autoipnosi e andavano a farsi la cosa si rilassavano si mettevano in ipnosi e la cosa non aveva più tutto quell'impatto psicologico terribile che aveva diventa uno strumento anche di resilienza di consapevole capacità di affronteggiare la situazione anche alle avversità della vita senza esserne sconvolti e non essere in grado di gestirle da padroni del vapore diciamo e questo ci porta a un ora che ha parlato di autoipnosi mi ha fatto pensare a qual è la vulgata della meditazione che in un certo senso fa qualcosa di molto simile ossia non so nel mio libro su meditazione e ipnosi io ho messo in evidenza anche tutte le tracce storiche che abbiamo per cui i primi mesmeristi all'epoca di mesmer studiavano le tecniche di guarigione delle tradizioni orientali e studiavano anche la meditazione e ci sono alcune testimonianze che dicevano per esempio che quando lo yogi è in profonda meditazione ha raggiunto lo stato mesmerico e che mesmer non ha inventato nulla di nuovo ha solo dato una veste e una codificazione occidentale a una pratica millenaria che fa parte anche di altre culture quindi c'è una strettissima connessione molto superiore a quello che si pensi tra ipnosi e meditazione poi gli scopi sono in parte diversi le modi di gestirli sono in parte diversi ma io quando faccio ipnosi per i pazienti che hanno qualche disagio faccio un'ipnosi che è molto meditativa e non trovo una contraddizione fra le due cose tornando alla prospettiva scientifica e ora usiamo questo termine un po' più occidentale che cosa avviene da un punto di vista neurologico e quindi diciamo riduzionista quando si fa meditazione sì allora ci sono molte molti dati in letteratura ormai il lavoro ancora sta ci sono lavori che ogni anno che vengono fuori interessanti non c'è un unico pattern né per la meditazione né per l'ipnosi perché? perché si fa in modi diversi perché gli obiettivi sono diversi se io devo fare solo una sedazione per un intervento o devo curare una fobia oppure devo fare un'analgesia per un intervento cambiano i compiti ipnotici quindi cambiano anche le aree che si attivano allora una cosa molto interessante che riguarda l'analgesia perché la cosa che è più stupefacente è il fatto di fare un intervento senza nessun anestetico col paziente che è consapevole che ricorda magari tutto e che non ha sentito niente perché lui che è riuscito a controllare le sue vie del dolore quindi non è che uno diventa uno zombie e non si ricorda uno fa un lavoro introspettivo intenzionale con cui arriva a modulare a controllare la neuromatrice del dolore che è un circuito molto complesso che c'è nel cervello e ci sono dati di qualizzanza magnetica funzionale molto belli che fanno vedere come l'ipnosi attiva la corteccia cingolata anteriore che fa parte del lobo limbico e come facendo questo lavoro si diminuisce fino a spegnere l'afferenza nocicettiva cioè lo stimolo doloroso che arriva alla corteccia somatosensoriale e questo uno lo fa intenzionalmente perché la fa finché vuole lui può farlo anche da solo senza l'ipnotista se è in grado di farlo quindi diciamo questo una cosa che si pensa dal punto di vista materialistico e questo è un po' l'essenza del problema che la mente sia solo l'epifenomeno dei circuiti cerebrali come se noi fossimo ospiti impotenti della macchina cerebrale e che la coscienza sia una specie di fantasma nella macchina questa è l'unica cosa che una prospettiva rigidamente materialistica riesce a concepire in realtà la sioma fondamentale della neurologia dice giustamente che non c'è attività mentale che non abbia i suoi neurocorrelati cerebrali e questo è verissimo ma questo però implica anche non solo il fatto che se io modifico i circuiti cerebrali con farmaci con lesioni eccetera si modifica la mente ma se c'è una corrispondenza bionivica quando io modifico la mente modifico anche i circuiti cerebrali e scegliere a priori solo una direzione quella bottom up che parte dal cervello per arrivare alla mente senza pensare anche che ci sia una possibilità di modulazione top down è un salto logico e un errore concettuale secondo me perché di questo non c'è nessuna evidenza anzi questi dati sulla meditazione e sull'ipnosi che ormai sono piuttosto robusti fanno vedere esattamente contrario quali sono i grandi temi del prossimo futuro per avanzare nel campo della scienza della coscienza se riuscissimo a cominciare ad approcciare al problema difficile in maniera più corretta questo sarebbe un passo una bella rivoluzione e secondo me per il momento c'è già qualche indizio del fatto di cominciare a tener conto non solo della prospettiva di terza persona dell'analisi dei circuiti cerebrali ma di tenere conto dell'esperienza con un approccio neurofenomenologico per cui devo tenere conto dell'esperienza del significato che ha l'esperienza del valore che ha l'esperienza della sua correlazione con i circuiti cerebrali non dando importanza solo alla parte del circuito se volessimo usare per fare una metafora grossolana molto grossolana ma è stata sempre usata della metafora del computer per pensare a come funziona il cervello e la mente è un po' come dire che l'hardware cerebrale è quello fisico che io vedo ma se io nel computer ho archiviato un file della divina commedia un file della teoria della relatività e di quello che volete voi non possiamo pensare riduzionisticamente di smontare il computer e vedere se di capire queste opere della mente umana guardando i circuiti del computer sono insieme vivono nella stessa macchina senza l'hardware non puoi gestire non puoi aprire i file non li puoi leggere hanno bisogno della macchina per poter esistere perché se no rimarrebbero in un mondo chissà dove però hanno anche una loro relativa autonomia quindi sono due facce della stessa medaglia in una dinamica relazione in cui non si può a priori rifiutare una parte perché assiomaticamente abbiamo deciso che esiste la materia e ciò che in materiale non ha senso il tema della coscienza ci porta e il tema del futuro prossimo perché è veramente molto vicino al tema dell'intelligenza artificiale come si combinano questi due elementi se si combinano allora l'intelligenza artificiale è stato un argomento poderoso ancora dall'epoca del test di Turing e di tutto lo sviluppo dell'intelligenza artificiale fino ad oggi che però il metodo computazionale classico con cui si studia anche la coscienza non va bene per una parte ma non spiega tutto cioè consideriamo che noi siamo un sistema che non funziona con la logica dei computer ci sono diversi dati interessanti su come noi funzioniamo e per esempio come il calcolo computazionale classico spiega meno bene alcuni processi decisionali rispetto al calcolo delle probabilità quantistiche e noi abbiamo la capacità di riuscire in qualche maniera a gestire in maniera relativamente semplice e rapida anche un aumento delle informazioni che arrivano abbiamo i nostri limiti ovviamente però l'aumento della complessità del sistema nell'intelligenza artificiale diventa critico al numero di informazioni che bisogna gestire diventa molto di più noi abbiamo un modo diverso e noi cambiamo continuamente prospettiva man mano che andiamo avanti nel ragionare questo si potrebbe imitarlo almeno in parte con le reti neuronali che sono già una realtà ma fa sì che uno ha anche dei limiti oltre che dei pregi per esempio se io faccio delle domande in sequenza la sequenza delle domande condiziona la risposta come lei la dà solo per aver cambiato la sequenza delle domande perché ad ogni domanda ad ogni risposta io modifico me stesso per andare avanti e questo non è un pregio necessariamente però indica una qualità diversa di funzionamento rispetto all'intelligenza artificiale dei computer e le dico con l'intelligenza artificiale si potranno fare cose straordinarie ma ritorno al problema della macchina di Turing perché fare un robot che si comporta ben programmato in modo che sembra intelligente vuol dire che è intelligente o che si comporta in un modo che appare come essere intelligenti sono due robe ben diverse potremmo dire che magari siamo molto vicini a una forma di intelligenza artificiale ma molto lontani perché siamo sfortunati dal creare la coscienza esatto non so dove arriveremo fino a che punto perché se lo potessi sapere mi candiderei di nuovo per un altro premio Nobel però ho la sensazione di due cose uno che l'intelligenza biologica sia qualitativamente diversa dall'intelligenza artificiale per lo meno come è stata concepita fino ad oggi poi il futuro è un'altra cosa e poi quello che non si considera molto è quanto noi siamo esseri dinamici in evoluzione il cervello non è un organo statico e la mente nemmeno e quindi noi ci modifichiamo continuamente in risposta alle esperienze trasformiamo noi stessi facciamo evoluzione quindi è una è una macchina che si autoprogetta al cervello ed è quello per cui siamo sempre gli stessi abbiamo la stessa identità e siamo sempre diversi e questo è un po' rimane ancora un po' misterioso quanto noi siamo completamente diversi pur essendo sempre gli stessi perché lei da quando è nato è sempre lo stesso ma se pensa com'era 10-15 anni fa 20 anni fa o quando aveva 3 anni o un anno se venisse un marziano dal di fuori vedesse lei è appena nato lei ha 10 anni e lei adesso potrebbe pensare che siete tre persone diverse cosa hanno in comune eppure c'è quell'identità che fa il trade union questa specie di sottofondo di background che si mantiene come senso di identità che rimane stabile pur essendo una totale modificazione della mente e anche del corpo e questo è un problema neuropsicologico filosofico eccetera che è ancora affascinante da affrontare non è del tutto risolto neanche questo per chiudere da un punto di vista individuale qual è il consiglio che si sentirebbe di dare per incamminarsi nell'approfondimento della propria coscienza allora ci vuole curiosità ci vuole quello che Platone chiamava l'eros filosofo che è amore per la conoscenza anche di se stessi anche del mondo e la cosa fondamentale è che se anche la verità in sé non è raggiungibile noi possiamo comunque ridurre il numero di errori e quindi vale la pena di perseguirla senza mai pensare neanche per un momento di averla raggiunta perché sarebbe una follia e se io sono pronto ad andare contro me stesso e contro le mie credenze e contro i miei personali interessi e vantaggi in nome della verità e di quei piccoli passi che posso fare allora si può andare avanti abbastanza bene mi sembra un punto eccellente per chiudere e la ringrazio del suo tempo prego è stato un piacere grazie a tutti grazie a tutti